Una lite per motivi ancora ad accertare è costata la vita ad un giovane d'Alessandria della Rocca, Vincenzo Giovanni Busciglio, di 23 anni, morto in ospedale dopo aver ricevuto una serie di coltellate nella piazza principale del piccolo paese in provincia di Egrigento. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri, quando all'uscita di un bar il giovane si è accasciato a terra ferito da una serie di coltellate all'addome, ispirando poi all'ospedale Fatelli Parla Piano di Ribera. Subito dopo l'accaduto diversi giovani sono stati interrogati dai carabinieri di Cammarata che durante tutta la notte hanno sentito le versioni dei presenti. I militari hanno fermato un 19enne nelle prime ore del mattino perché a suo carico ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza. Oltre alle testimonianze, infatti, i carabinieri hanno vissuto una tante telecamere e analizzato dei coltelli durante alcune perquisizioni. Questi elementi raccolti avrebbero fugato ogni dubbio. Sul caso ha aperto un'inchiesta alla Procura della Repubblica di Sciacca, l'ipotesi è di reato di omicidio. Il presunto assassino è Pietro Leto, 18 anni, già noto alle forze dell'ordine e con problemi di depressione. Pare che in passato sia stato anche sottoposto a TSO. I particolari della vicenda sono ancora però tutti da chiarire, così come da chiarire sono i motivi della lite che hanno posto fine alla vita di un giovane ragazzo conosciuto dai cittadini come un bravo ragazzo, molto socievole, appassionato di go-kart e motori, suonava nel locale banda musicale. Da piccolo Vincenzo era riuscito a sopravvivere a una leucemia. Grazie. 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 Grazie.